ok ragazzi ho messo momentaneamente sul divano le console e adesso andiamo ad aprire questi altri due racchi e vediamo un po cosa c'è dentro i pacchi questo l'ho trovato in offerta sul market facebook e devo dire che comunque è fantastico ma questo non so che è un accessorio della wii get in the game si questo è un accessorio della wii ragazzi che tu vai sopra il gioco e il fatti sembra tipo wifi ora non ricordo il nome preciso adesso qua e andiamo a vedere un po cosa c'è un po' un po' un po' un po' un po' c'è un altro accessorio per la wii dentro speriamo che sia pistola quella per giocare anche a soffrede ad speriamo che sia quella ragazzi ma qua ci stanno i telecomandi due telecomandi ci sono compresi questo questo va così si va così si va così uno e due questo è la power dell'altro telecomando c'è anche lo sterzo per giocare a mario kart però qua sbaglio manca un pulsante e qui abbiamo il manuale di strutture di stagione e qui abbiamo il funzione il telecomando che ha messo questi questo ha messo qui e poi ci stanno i frecci direzionale con anche la seconda scatola compreso di volante per giocare a mario kart e anche il wii fit parecchi accessori per la wii e niente ragazzi mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale ma come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli